Tra l'altro, vi dico solo che, faccio schiantare, vi dico solo che chi vince di loro cede la fascia a un'altra ragazza, quindi la fascia che c'era prima, quindi un'altra ragazza del gruppo là dietro prende la fascia che aveva la Miss che vincerà Miss Liguria 2015 e cederà alle tre finali anche lei. Quindi vediamo chi è, la Miss Liguria 2015 è la numero, tra l'altro io non ho mangiato, c'è una pizzeria dove si mangia, no, ve l'ho chiesto dopo, va in prima, come va? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Tranquilla, eh? Te? Anche. La salivazione non c'è più, ha detto... Anche. Certo, certo, invece tu, eh? Eh? Sì, è buf, cioè sei tranquilla, insomma. Sì, sì. Perfetto, vedi. Sì, sì. Beh, che ne so, facevo per chiedere. Dunque, Miss Liguria 2015 è la numero 9, Giulia Buonco. Complimenti. Facciamo un applauso anche alla seconda della sindicata. Miss Italia. E tra l'altro... Miss Italia. Applauso per la lucidice. E tra l'altro... Miss Italia. Wow, Miss Liguria 2015. La Miss Liguria 2015 cede quindi la sua fascia di Miss Eleganza Liguria, la numero 4, Chiara Icardi. Miss Italia. Vince la fascia di Miss Liguria 2015. Prego, la pastorella è per te. Complimenti. Grazie anche alla sicurezza, naturalmente. Grazie ai parrucchieri, grazie a tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.